Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuovo video di news, nuovo video di aggiornamenti sul mondo dei videogiochi. Come sapete, ieri la Ubisoft ha annunciato il nuovo titolo della serie di Far Cry, Far Cry Primal, gioco che arriverà il prossimo 23 di febbraio su PlayStation 4 e Xbox One, mentre da marzo 2016 il gioco approderà anche su Windows PC. Mentre vi parlo vi sto facendo vedere le prime immagini rilasciate dallo sviluppatore di Far Cry Primal. Il gioco è sviluppato da Ubisoft Montreal in collaborazione con Ubisoft Toronto, Ubisoft Shanghai e Ubisoft Kiev. Far Cry Primal è un'avventura per giocatori singolo ambientata 10.000 anni fa, in un'epoca in cui la Terra era dominata da creature gigantesche come mammut e tigri dai denti a sciabola. Infatti lo potrete vedere direttamente da questa immagine perché entrambi gli animali verranno mostrati in queste immagini sia i mammut che le tigri. E nel gioco vestiremo i panni di Takkar, un esperto cacciatore, l'ultimo superstile del suo gruppo, e dovremo sopravvivere in un mondo dove gli uomini sono la preda. Fatemi sapere che cosa ne pensai di questo Far Cry Primal che a me sinceramente attira moltissimo. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.